partono da questo suono molto caro ai lancianesi il tintinio della campanella le feste di settembre edizione 2021 edizione un po della rinascita dopo la pausa forzata dello scorso anno dovuta alla pandemia gli artigiani sono già al lavoro per la fiera di sant'egidio del 31 agosto più nota come fiera delle campanelle questa è una tradizione veramente che parte molto da lontano qual è il significato di questa campanella giovina lazari artigiana da tanti anni ma la campanella nella tradizione cosa significa significa amore porta fortuna riconciliazione un po di tutto diciamo che si regala a chi si vuole bene in quest'ultimo anno ancora di più apprezzata per questo covid che abbiamo in giro e visto che la campana porta bene c'è un omaggio anche per noi ma vediamo quali sono le regole di questa festa di sant'egidio il 31 agosto quali le regole maurizio trevisan presidente del comitato feste di lanciano sì finalmente siamo siamo riusciti almeno a recuperare una manifestazione importante di queste nostre feste di settembre dunque le regole saranno sarà possibile accedervi con il green pass pena è una sanzione per chi dovesse esserne sprovvisto per quanto riguarda il momento clou dei festeggiamenti cioè 13 14 15 16 cosa si prevede sì allora il 10 ci sarà lo spettacolo di enrico brignano e il 14 max pezzali nelle 15 e gaia e a caseven e il 16 nicolo fabi abbiamo cercato di insomma di metter su un cartellone che possa soddisfare diverse fasce di età e di gusti addirittura ci stiamo attrezzando per fornire un servizio di tamponi per chi dovesse essere sprovvisto di green pass e avendo già acquistato il biglietto insomma può intervenire comunque e niente ci stiamo muovendo in questo senso quindi speriamo di fornire anche questo questo servizio che penso sarà molto molto importante